Stop al pesce fresco a tavola in Abruzzo per il fermo pesca al via da ieri 15 agosto e che andrà avanti per un mese. Pescherecci fermi nei porti abruzzesi per l'annuale fermo biologico che per circa 30 giorni interesserà anche la nostra marineria. Ascoltiamo l'armatore Mimmo Grosso. Il 15 di agosto è partito il fermo biologico 2019 che terminerà il 15 settembre 2019, 30 giorni anziché 45. Questo non si capisce perché e se vogliamo dirla tutta non si capisce neanche per quale motivo facciamo sempre questo periodo e non si capisce bene se questo sia un fermo biologico o un fermo commerciale perché in questi ultimi tempi che siamo stati in mare noi siamo abituati a fermare il 20 di luglio, tutt'al più alla fine di luglio. Ormai sono un paio, due o tre anni che fermiamo il 15 di agosto e come al solito io dico sempre che pescare fin questi giorni nel mare Adriatico, nell'Adriatico centrale della nostra zona, è uno scempio della natura. Abbiamo fatto distruzioni di novellame in queste ultime due o tre settimane, cose che potevamo risparmiare e che non è stato fatto. È vergognoso. La novità di quest'anno è che in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni a seconda della zona di pesca alla quale sono iscritti. Le giornate di stop saranno decise direttamente dai pescatori. Quest'anno ne facciamo 30, non si capisce bene per quale motivo. Ci sono state sicuramente qualche associazione di categoria che ha avanzato questa ipotesi che poi si è concretizzata, non si capisce bene per quale motivo. Quando l'hanno detto a noi di Pescara, noi pescatori di Pescara, noi facevamo già tre giorni dal 2008-2009. Quando ce l'hanno detto a noi ci è venuto solo da ridere. Perché praticamente non ha nessuna fondatezza, non serve a nulla. Io semmai proporrei di pescare tre giorni alla settimana durante tutto l'anno e poi magari invece di tre ne farne altre 45. Quanto ai risarcimento per i fermi biologici? Lo Stato ci deve due fermi. Questo che abbiamo fatto adesso sarebbe il terzo. Quindi sarebbe il caso poi che lo Stato prima si togliesse i debiti con i pescatori, la Comunità Europea o chi per esso. E poi magari forse potrebbero avere voce in capitolo.